Grazie, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Piazza Italia, benvenuti a questa bellissima iniziativa, a questa nuova edizione. Allora ovviamente ringrazio il nostro coordinatore romano Marco Perissa che è stato affiancato da un altro grandissimo storico militante di questo partito che è Daniele Rinaldi. Davvero complimenti per aver organizzato insieme a tutto il coordinamento romano questa bella piazza, questa bella iniziativa, questi tre giorni per stare insieme. Io ringrazio ovviamente tutti i nostri elettori, ringrazio tutti quelli che ci sostengono perché finché ci sarete voi noi avremo quella forza e quella determinazione che ci ha sempre contraddistinto perché vedete l'ho ripetuto in tutta la campagna elettorale, lo dirò ancora oggi qui, noi siamo prima di tutto dei militanti, siamo persone, uomini, donne, un esercito di persone che hanno scelto di fare politica senza nessun interesse personale ed è così che abbiamo iniziato il nostro percorso, un percorso di persone che non hanno mai tradito i propri ideali, che sono sempre stati dalla stessa parte perché vedete la politica è questo, la politica è soprattutto impegno, la politica è sacrificio, la politica è donarsi, la politica è il convinto impegno giorno dopo giorno di voler migliorare la vita delle persone ed è stato questo che ci ha portato tanti anni fa a iniziare questo nostro percorso. Oggi abbiamo realizzato un sogno, il primo sogno lo abbiamo realizzato, oggi siamo un grande partito, oggi siamo il partito della nazione, siamo il partito dell'orgoglio di sentirsi italiani, siamo il partito della coerenza che non abbiamo mai tradito, siamo un partito di patrioti, siamo il partito di quelle persone che ogni giorno con ogni singola azione dimostrano che prima di tutto esiste l'interesse dell'Italia. Mossi da questo spirito oggi governiamo l'Italia. Abbiamo bisogno di tanto impegno, ce la stiamo mettendo tutta, ma nonostante spesso provano a dipingerci per qualcosa che non siamo, la maggioranza degli italiani è al nostro fianco, segno che stiamo facendo bene. Nell'ultima campagna elettorale agli europei gli unici partiti che crescono sono i partiti del governo italiano, Fratelli Italia, Forza Italia, La Lega, in tutta Europa sono gli unici partiti che crescono e crescono dopo due anni di governo. Nessun altro partito al governo cresce come succede qui in Italia. È il segno che forse gli italiani ci stanno capendo, capiscono il nostro impegno e capiscono i nostri messaggi. E questo succede anche perché non abbiamo mai perso la bussola, perché noi siamo questi, perché noi siamo militanza, perché noi siamo partito e il partito è più tonico e vivo che mai. Mentre c'è qualcuno che sta al governo, tanti altri si occupano del partito. Abbiamo organizzato una grande stagione congressuale, abbiamo rimesso mano a tutte le grandi federazioni d'Italia, le abbiamo riorganizzate, abbiamo riorganizzato la federazione di Roma e oggi qui in questa piazza noi partiamo per questo impegno nuovo che è l'impegno di costruire una grande federazione che può essere la federazione della città più bella del mondo. Una federazione capace di costruire e di elaborare un progetto, una proposta per il governo di questa città perché è quello quello che dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare con impegno e dedizione giorno dopo giorno con tutti i nostri dipartimenti, con il grande lavoro che farà tutto questo coordinamento e questa piazza oggi qui è il primo passo per iniziare questa grande stagione e lo faremo coinvolgendo le categorie, la società civile, elaboreremo una nuova proposta per questa città e io sono sicura che con il nostro impegno i romani capiranno la bontà della nostra politica e ci daranno forza e forse ci riconsegneranno il governo di questa città. Non possiamo sbagliare, lo dico ancora, è la città più bella del mondo, non possiamo sbagliare, questa è Roma. Benvenuti a Piazza Idealia e buon lavoro a tutti e buona festa!